E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Rainbow Non ve l'ho richiesto, l'ho fatto a caso di sera perchè giusto non c'avevo proprio niente da fare E quindi... scusate se sentite un po' che salto Hello? Allora Volevo dire Ragazzi aspettate un one second Mamma Ma non volava, non volava e l'ha detto che ho fatto così con il frattamento l'ho sperminato, l'ho finito di spaccare Uuuuh ragazzi, falchirie Ragazzi falchirie, stavo proprio dicendo facciamo una challenge Facciamo una challenge Dei coso Dei coso dei Allora, dell'appistule In teoria oggi volevo fare la challenge con cavera Prova Anzi oggi vi faccio vedere un po' come gioco, basta farlo Anzi oggi vi faccio vedere un po' come gioco, basta farlo Eh ma ho sbagliato Ragazzi facciamo un po' come gioco, basta farlo E' un po' come gioco, basta farlo O di Apex Ovviamente il video di Apex l'ho registrato ma Lo pubblicherò poi domani Ragazzi c'è, non c'è voglio oggi Perchè altro Di video anche di Dragon Ball O video di Call of Duty World War 2 Scrivete Scusate se vedete Ok No perchè Stavo Copyright 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 Dai Vienerà noi Copyright Ragazzi 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 Bene basta Ai 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 dio va bene anche questa partita andiamo via tanto sto registrando aspettate che mi esco proprio da solo aspettate aspettate ditemelo prima che devo stoppare la clip video cioè allora cominciamo con un'altra partita tre ore solo per trovare una partita in cui non mi spell riproviamo ragazzi facciamo challenge solo caveira e in attacco glaz solo glaz oh è vero che stiamo cosando poi perchè io canto copyright glaz come promesso glaz proviamo la canata commentazione oh io ho mamma muuuuuh c'ho una fame incidre di blu allora basta cantare dio bello basta basta cantare dio bello me lo devo ricordare che non devo cantare nooo no 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 ok entrare dio bello dio bello bello e ma dove metto aia aia aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia часть guardate se sentita avete sentito così ma ve lo giro che mi sono fatto mal cani ah è vero che anche che schifo col silenziatore che schifo pure la pistola che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo perché cosa 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 ok tutto a posto tutto a posto ok grandi scusami c'erano tutti una kill e sono in mezzo dio bello basta allora ragazzi c'è va bene va bene va bene ma perché io mi dimentico sempre perché non devo cantare non devo cantare ok me lo sono messo in testa avete visto cosa cavolo ho fatto un glazzo questo video lo devo pubblicare anche se è passato da bomba nucleare io pensavo che erano giù hanno meno ordine bandita bandita allora che schifo col silenziatore oh my god avete spaccato la telecamera vero? che l'avete spaccata da dove? ragazzi sì 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 Lo sapevo che prima o poi morivo, lo sapevo. Cioè quelle 18 da dove è spuntato, scusatemi. Adesso abbiamo fatto il challenge, quindi devo scegliere cavera. Easy boys! Guardate che li metto questo completino silenziatore che non si è andato a vedere nel seguente video. Sovano vedere completino silenziatore, no? Tutto. 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 Stavo provando a fare una cosa, eh. Non mi capiterà mai una cosa così del genere. Ragazzi, visto che io con cavera devo pushare, se devo pushare devo fare una pinisteria. Devo bucare la sinistanda qua. Bucare qua. Che devo fare? Devo fare qua. Ciucicicici beh. Peh. Peh. Speaking itale. Speak itale. Ok. ragazzi rischio tanto che avete fatto così noi siamo fatti così siamo lasciati col cartone e se voi un quadro del cerbiato ciccione oddio oddio bello ma almeno l'orgoglio lo so usare questo qua speriamo di sì speriamo almeno di sì 1v3 e simpress ble c'è una risinia comunque lo sapevo lo sapevo che tanto vincevano amm ragazzi mai usare mai usare ventolino se non sapete in questo gioco chi è ventolino infatti non me lo sono appena inventato no no non me lo sono inventato ventolino proviamo la col pump ce l'ho già provato però perché io mi trovo spinato agazzi 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 perfetto noo qua no qua no qua no qua dovete coprire non ho fatto niente oh chi è che mi ha t'inchillato come ti ha t'inchillato vai che ti tira un luminescente eh ti stordi gli occhi oh oh mori su sto gioco non morì eh vai fuori bravo eh grande ah mi ha rafferciato l'occhio dello schifo allora perfetto così si va amico amico si va così ah lì dal buchino ci voglio prendere non me ne prego un cable eh vabbè ma allora dove vado non c'è per capire tutto lo schifo tutto me lo ho già lo so ragazzi guardo se postato guardo se qua c'è qualcuno italiano cos'altro eh la madonna no 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 Tecni, mi ah... che faccio? ho 20 di vita schifo faccio che bella immagine che bella immagina gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi ragazzi io vi proporrei questa sfida sono visto lì sono metragliettina di proviamo la metragliettina di i-si-si-si i-si-si-si-si Uèèè il minuto uèèèlo lé com colored all'incuzione chi qui seك L'ho sputato dalle mie bocche, mi è piaciuto il regalino, il regalino, il regalino piccolino Cioè per farvi capire, aspetta, il massimo che riesco a tenere è uno schifo quindi Io lancio granati e ne ha caso Ragazzi non chiedetemi, non domandatemi mai cosa sto a fare Ma mai, cioè non so neanche io cosa sto facendo in realtà Sto guardando gli esci Sono in una stancina bloccatina Non è come la mia boccatina Daria Sì Ragazzi lo sapete cosa faccio, sono un pazzo Oh era qua ragazzi Ti begate, ti begate, ti begate Bella raga Ragazzi Io penso che il video potrebbe Cioè potrebbe Io penso che il video finisce qua E ciao